In questo episodio di Plain Jane la nuova me... Louise, vorrei tanto il tuo aiuto perché non mi sento bella. È da poco di buono. Poco di buono. Wow. Ecco Plain Jane. Ho portato Margie nella bellissima città di Matera, nel sud Italia, per l'appuntamento con Max. È uno degli insediamenti più antichi del mondo. Wow. Dentro di sé, Margie si sente meno impacciata e più sicura. È ora di passare all'esterno. Ciao Massimo. Ciao. Questa è Margie. Margie, Massimo ti sistemerà i capelli. Ha lavorato alla settimana della moda di Milano con tantissime modelle. È incredibile. Vi lascio lavorare. Ciao. 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 Accomodati. Margie vedrà il nuovo look solo appena prima dell'appuntamento, quindi gli specchi sono coperti. Eri mai stata in Italia? No, mai. È bellissimo qui, lo adoro. Sei nervosa per stasera? Non più di tanto. Adesso sono più che altro emozionata. Ehi ragazzi. Ciao. È un capolavoro, la adoro. È perfetto. Posso prendersi? Va bene. Allora andiamo, grazie mille. Grazie. Prego, buona fortuna per stasera. Te l'ha detto in italiano, buona fortuna. Ciao. Tra poco l'appuntamento incombe e Margie ha un nuovo look. Sei pronta? Wow. Margie. Ciao, Margie. Come stai? Grazie. Wow. Sono sistemata bene. È incredibile, sì. Ha una nuova sicurezza. Alla tua prima volta in Italia. Sì, e alla nostra prossima Londra. Grazie. Grazie.